Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Avete presente le bedwars che abbiamo provato appunto tempo fa in un video, quelle lì francesi? Bene, oggi ho trovato le bedwars asiatiche Andremo a provare questo server bedwars asiatico Non so com'è, non so davvero com'è, non le ho mai provate So solo che il mio ping è 250 e oltre Quindi vi invito subito a lasciare un bel like Consigliatemi, ci sono i commenti, altri server da provare Seguintemi su Instagram, c'è lì in descrizione Andiamo a vedere come sono fatte queste bedwars asiatiche Primo game su questo server Allora naturalmente siamo sempre con il figo 22 raga È il mio alt per sp Il ping ragazzi del server è davvero tanto alto Infatti come vedete per aprire lo shop, prendere del legno eccetera Ci mettiamo davvero tantissimo tempo Minchia raga, ma c'è proprio un delay bestiale Ma non credevo così tanto delay Ok cerchiamo di lasciare rosso Comunque queste mappe raga non si vedevano da tantissimo tempo Infatti su pixel ormai questa mappa non esce da tanto nella rotation Voglio tantissimo testare l'hit anche se pingo tipo tantissimo Non voglio parlare Allora qui altro che pingate raga Cioè qui o sei pingato o perdi Io devo giocare su questo server Per tutto questo tempo Con questo ping Lui riesce a sciogliermi con due crit Cosa illegalissima No bro Non lo so da casa tua Mi ha preso da tantissimi blocchi di distanza È impossibile ragazzi che il ping di questo server No sta citando Sta per forza citando Se no non si spiega questa cosa No raga allora è impossibile Giocare su questo server Allora cerchiamo di andare sopra e non so dove è lui Però ha ancora il letto, ha tutto raga Vediamo di andare in base sua Mi sa che è tornato in base Non è tornato nemmeno in base E dove minchia è andato il rosso? Vabbè comunque noi ci facciamo il letto Il letto del rosso è andato Comunque sembra fatto bene A parte il ping raga Però comunque animazioni fighe Lo shop ci sta C'è anche lo shop aggiornato Non so dove è il rosso Ha eliminato Mi sa che si era disconne Raga Se si era disconnezzo così random E mi è strano Secondo me lo hanno bannato Non vorrei dire nulla Comunque abbiamo il ping da lasciare Prima però prendiamoci dei diamanti qui Che ne sono due E direi di lasciare subitissimo proprio il ping Ma proprio subito 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 Reinforza d'armor fatta Non l'ho visto No non l'avevo visto Non l'avevo visto Non l'avevo visto Era camperato lì Direi di andare a prendere un attimo Al volo proprio dei diamanti Qui davanti a noi Perché abbiamo una protection Ma non abbiamo una sharpness E cadiamo anche nei ponti GG Marcus GG Ok ho preso quattro diamanti Perfettissimo Io non so se il ping sta arrivando Non lo so Credo di no però È crudo adesso nel volo Perfetto Ci facciamo la sharpness E lo lasciamo Per forza raga Dobbiamo lasciarlo subito Abbiamo perso il letto dall'acqua Oh mio dio Erika Ora dobbiamo un attimo stare attenti Perché se il ping ci killa È finita Quindi ci facciamo intanto La protection livello 2 Perfetto Vorrei di stare anche Fireball jump TNT jump Queste cose qui Però credo che per ora Non è proprio il caso Perché se moriamo Moriamo Però intanto Ce la prendiamo una bella fireball Ok il ping è davanti a me Io intanto la provo A tirare davanti a lui Ok non so quello che è successo Madonna raga Ma il ping è davvero stra alto Su sto server È caduto È caduto No mi stai tanto Devo di più riuscire a bloccarlo Gheppoliamo al volo Eh no raga Ma il server ora sta proprio laggando Ma per laggare Ah ma non è fatica Ma così Oh L'ho killa Come l'ho killa Non lo so va bene Il letto è andato Gheppoliamo Facciamo così Facciamo così Lo possiamo killare Oh oddio È sparito davanti ai miei occhi Va bene va bene va bene Voglio provare a fare il fireball jump Abbiamo eliminato il ping Facciamolo tipo qui Oh va bene Credevo peggio Credevo che veramente Ti buttava nel vuoto Ma ok Siamo rimasti in due Perché il signor Acqua È stato eliminato adesso Dal giallo Quindi io Ora Vado a prendere il giallo Per forza Hai letto quindi Occhio raga Occhio perché se no qui Ci rimettiamo le penne Facciamo così Ha buttato una perla Perché Qual è il motivo Morto Letto è andato Eh qui devo cheppolare Devo cheppolare Questo ha 195 star Su sto server Ok Non così Oh ma sapete che le hit Sono carine Minchia abbiamo vinto GG Le hit raga Sembrano carine Purtroppo però C'è tantissimo di hit Tra un hit e l'altra Primo game Prima win Il figo 22 Colpisce ancora Ci facciamo subito Un altro game Che mi stanno facendo le hit Ok ci siamo Altro game Eh ma questa è una mappa nuova Quindi non è una mappa dei pixel Uh sono curioso Sono curioso di vedere Allora intanto prendiamo Della lana Prendiamo anche del legno Facciamo così Bardiamo proprio al volo Perfetto Ok Questa mappa forse L'ho vista da qualche parte Non lo so L'ho fatto il sandwich Come bardatura GG Ok già sta arrivando l'acqua Quindi corriamo a prenderlo Ora sembra che sta laggando Tipo di meno Ma qui ci sono Problemi Oh la skin di parpled Lol che clutch Oh oh Non sto capendo nulla In questo fight Non ho capito nulla Non può rompermi il letto Non può rompermi il letto Io che rimango bloccato In un Va bene Ero rimasto un attimo Bloccato in un blocco L'acqua ha 118 stelle Regà ma qui Non ho dovuto triardare Ok facciamoci un attimo L'armor al volo Ancora che cerchi di rompermi il letto Basta rompermi il letto Bro non riesci Basta Basta anche a tracciarti Perfetto Prendiamo un'ascia Proprio al volo Così se ci serve Ce l'abbiamo Dobbiamo arrivare Prima di lui però Perché se lui prende L'album di noi Sono cavoli Ok Eh raga Si è fatto la spada in ferro Si è fatto la spada in ferro Mi sa che va a finire male Non può romperlo Oh A posto Madore che aveva Aperto il letto Ok cerchiamo di noccarlo Nel vuoto A posto Bellissima hit questa Ora ci possiamo fare il letto Il letto è andato Si è disconnesso A posto Proprio così GG signor Acqua GG Ora abbiamo il blu Che mi sa Vuole venire in base mia Forse Va bene ma andiamo noi Senza problemi Perché tanto Dobbiamo andarci Quindi corriamo Il blu davanti a me Rica Io potrei fare intanto così Intanto l'ho fatto volare No Ho sbagliato Ho sbagliato Ho fatto un'azione Davvero Scorretta Sta arrivando con la TNT L'ha appena piazzata No non può rompermi il letto Non può rompermi il letto Ok Mi ha portato anche due diamanti Grazie mille signor blu Io mi posso fare intanto Una bella protta Mi faccio una spada in ferro E andiamo a prenderlo Ok non l'avevo visto Oh mio dio Situazione bruttissima Però potrei fare in teoria Così Eh non riesco a farci il letto Non ho la sheer Potrei boxarmi in realtà Ok Perfetto Oh L'ho killato Eliminato Oh mio dio Bellissima giocata Sono riuscito a boxarmi in tempo E anche fan killarlo Perfetto Abbiamo solo il grigio da eliminare Dopodiché abbiamo vinto anche questa Corriamo dal grigio Giocare ragazzi con questo ping Non è davvero facile Però devo dire E tutto questo è un'abitudine Il ping è naturalmente alto Non è come a pixel Che pinghi 130 Però è fattibile giocare Qui davvero non puoi giocare È troppo troppo complicato Però devo dire Il sever in sé per sé È fatto davvero davvero bene Mi piace Mi piace davvero tanto Non è come gli altri server Che sono pieni di bug Questo qui oltre al ping Mi sembra perfetto Anche qualche mappa custom Quindi credo che queste qui Sono mappe fatte da loro E comunque è una cosa Molto molto bella Facciamo così Lui vola nel vuoto giusto Non ho preso lockback O non è entrata proprio lì Non ho capito Letto è andato A posto Secondo game Seconda win Terzo game Che dite regà Concludiamo in bellezza Secondo me sì Secondo me sì Qui in teoria Lo spawn di gold È davvero esagerato Qui il gold Spona subito Che ti può fare subito L'armor Ecco c'è una cosa Che comunque devo dire Magari devono diminuirlo un po' Però va bene Non bardiamo Perché è davvero P che ti può fare subito L'armor Preferisco l'armor Invece di una difesa Al letto Comunque Beh guarderò anche male Ma va bene così Allora il verde sta arrivando Ma sta arrivando anche il signor acqua Quindi in questo caso Devo un attimo vedere Se l'acqua prende solo i diamanti E torna indietro Oppure mi vuole lasciare Nel mentre mi sono fatto La spada in ferro Che è molto molto buona L'acqua è caduta A questo punto Mi concentro sul verde Per forza Quindi signor verde Io sto arrivando Facciamo così Nocchiamolo nel vuoto Mi potevo glacciare Era un lì lì Va bene Va bene E va bene È tornato indietro Volo 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 Ok Devo farlo venire qui E noccherò nel vuoto No cazzo Ho sbagliato Eh in questo caso Eh non ho vita No Stavo prendendo un fight Della madonna Va bene Dobbiamo andare subito A farlo L'acqua è stato eliminato Dal bianco E allora ragazzi 100% il bianco Ora corre da me Quindi dobbiamo un attimo Stare attenti Il verde mi sta proprio rasciando Cioè non è letto Ma vuole proprio Assaggiare la mia spada Sui denti Va bene Qual è il problema Ok Se prendi più di knockback Magari mori Grazie mille Il bianco Sta arrivando Perfetto Ok Mi sembrano comunque Abbastanza bravi qui i player Cioè nel senso Molti già sanno brigiare Questo qui ad esempio Avevo le scalette in mano Mi ha rotto il letto Il grigio Ma da dove è passato il grigio What the fuck No dobbiamo far subito una prot No 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 Non possiamo perdere così Che puliamo Perché ora arriva Che è qui Che fai Piazza TNT No sono in due 2v1 Soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questo server E se già l'avevate provato Vi auguro una buona giornata Ci vediamo da un nuovo video E vi saluto Bello